Uno degli otto licenziati dalla Trelleborg, perché sei a manifestare qui davanti all'azienda? Perché questa azienda non ha più accalpestato i diritti dei lavoratori di otto padri di famiglia che sono disperati senza sussidi di legge e si permette di fare un open day per far vedere alla città che questa è una fabbrica pulita. Questa è una fabbrica che ha licenziato, che con accordi sindacali ha fatto investimenti da 1.400.000 euro. Dal 2010, quando hanno licenziato questi otto padri di famiglia, che tra l'altro sono i più anziani, tra cui io, 56 anni e 35 anni di anzianità in questo stabilimento, hanno assunto 21 persone e da quest'anno altri due e quattro contratti a termine. Queste sono persone che calpestano veramente i diritti dei lavoratori. Sono qui a dimostrare, e non sarà finita qui, che i lavoratori hanno dei diritti e dobbiamo andare avanti per questa strada.